Da ieri, con un'ordinanza, il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, ha autorizzato l'attività fisica sul lungomare cittadino, che rimarrà aperto per tutti. Nella stessa ordinanza, il primo cittadino comunica che il cimitero comunale è di nuovo aperto ai visitatori. Si riparte, dice il sindaco, dal 1 maggio. Sono stati mesi di sacrifici che hanno portato importanti ed evidenti risultati per il contenimento del coronavirus. Oggi, dice il sindaco, inizia una nuova ripartenza. Dunque, da ieri mattina, si potrà tornare a far visita ai propri defunti al cimitero. Si potrà passeggiare e fare attività sportiva anche sul lungomare di Locri, che torna ad essere libero per tutti. Purtroppo, sono necessari ancora sacrifici per i più piccoli, perché non si potrà accedere al parco giochi. Ripartiamo con serietà e responsabilità, ma senza abusare delle libertà che ci sono state date. Il sindaco ha ringraziato anche i cittadini che, con il loro impegno, hanno rispottato le regole rigide della fase critica dell'emergenza. Dice, siamo stati bravi, il percorso è ancora lungo e pieno di insidie, che sono certo, dice Calabrese. Riusciremo a superare brillantemente, grazie a quella capabilità e responsabilità che da sempre ci distinguono ai calabresi.